Ciao Roberto, io sono in posizione, dove sei? Eccoci qua, ciao Andrea, buongiorno Il Robertino, la radio mobile Ti aspetto al punto X Eh sì ragazzi, oggi passerò una giornata da camionista con un camionista radiomatore perché devo provare questo che è un Midland CB Talk l'evoluzione del vecchio ma ancora attuale CB che sta sui camion Eccolo qua, il nostro Andrea pronto ad affrontare una giornata da tracchiare Eccoci qua Ciao, salgo al volo Ah che si è in mezzo a strada, ammazza quanto è alto Ciao Andrea, buongiorno e benvenuto Ciao Roby, buongiorno a te Ma quanto è alto questo camion? Ma è nuovissimo Eh insomma, questo camion è nuovissimo, questo camion ha una settimana di vita, pensa Spettacolo Adesso parleremo con altri camionisti ma magari anche con voi perché questa, che è la nuova versione Smart, ha una funzionalità espansa ovvero quella di poter utilizzare l'applicazione per parlare sempre come se fosse col CB ma anche senza bisogno di avere un CB Fantastico Dove i bordi? Allora adesso andiamo a Legnano andiamo a fare un carico e poi dopo andremo a fare anche un altro carico in un'azienda di Arese Sì però ricordati la trattoria, la trattoria, la trattoria Ma io non vedo l'ora di provare il traspalle, ma hai visto che gesto atletico per salire? Allora, devo stare attento a non volare fuori tutto Esatto Tra l'altro raggio di strezzata, fantastico Giù Tiro la leva Tiro la leva Questo si abbassa E adesso posso andare di... Ma si blocca su, no? Devo cercare di non schiantarmi fuori Ma è fantastico Bello Se mi va male come youtuber ho un lavoro assicurato Però devo dire una cosa Che il carico di oggi mi piace Perché è anche un po' etico Mi stava raccontando Roberto Che c'è tutto un mercato e anche una logistica degli imballi Perché tutte le cose arrivano imballate In cartoni, scatole, pallets eccetera eccetera Quindi siamo andati in questa fabbrica Che fa cose E che restituisce al fornitore Là tutti gli scatoloni ben piegati Qua tutti i pallets Ma anche degli scarti Quindi dei pezzi venuti male Ma questi pezzi venuti male non andranno in discarica Bensì verranno triturati, macinati Per fare altri pezzi Si spera venuti meglio Bene così Mi piace questo carico Ma siamo entrati in autostrada Quindi siamo un po' più tranquilli Anche perché il camion super nuovo Adas, assedente di corsia Cruise control attivo Lo stai guidando da oggi Primo giorno Primo giorno Primo giorno di lavoro con questo camion qua E vi racconto un po' com'è fatta l'applicazione Come vedete qua a sinistra possiamo switchare Tra i canali E poi Roberto voglio capire la differenza tra i vari canali Ai gruppi Poi con quest'altro pulsante si può attivare il dual watch Cosa è importante Perché dual watch vuol dire poter seguire due canali contemporaneamente Esattamente Perché voi i camionisti avete magari un canale di servizio Anzi raccontami tu che ne sai molto di più Sì con il dual watch c'è la possibilità di restare collegato per esempio con l'azienda Un'azienda che ha una flotta di camion in giro Ma anche i servizi di emergenza Metronotte Qualunque servizio professionale può avere un canale Cosiddetto Cosiddetto Di scuderia Insomma un canale aziendale Dove può comunicare con tutti i propri dipendenti Però chiudono orecchio anche magari sul canale da cazzeggio Esatto Perché la radio è anche cazzeggio Esatto Che poi è vero soprattutto il contrario Cioè un camionista può stare in compagnia tutto il giorno sul canale di cazzeggio Che poi di cazzeggio sì Ma in realtà per noi è uno strumento di lavoro molto importante Ora ci scambiamo delle informazioni importanti riguardanti il traffico e non solo Ma se veniamo contattati dall'azienda, dall'ufficio, dal capo spedizioniere Siamo subito pronti a rispondere perché appunto con il dual watch siamo sempre raggiungibili L'applicazione ha altre funzioni fantastiche che vanno molto oltre l'utilizzo del cp tradizionale via radio Anche se rimane utilissimo poi Roberto me lo racconti Prima di tutto la modalità mappa Come vedete sull'app si può anche attivare il layer del traffico E sulla modalità mappa in base al canale selezionato si vedono le persone che ci sono attorno a voi Io adesso ho attivato questo canale dove ci sono andato a gente e appunto ha iniziato a parlare Mi posso sempre quando voglio mettere in muto Se comunque voglio vedere chi c'è la mappa ma non voglio sentire le persone l'audio C'è anche la modalità radar che monitora nel raggio di 30 km se avete solo l'app ma se abbiamo il dual mic wireless Abbinando un dual mic lo squelch passa a 100 km Una funzione che Roberto diceva eccezionale è quella del pulsantino qua anteriore del dual mic Tra l'altro come vedete c'è qua il supporto comodissimo e tu sul volante hai anche i pulsanti per utilizzarlo In remoto, persone in free kit senza mani quindi al rispetto delle regole stradali e della sicurezza Questo pulsante per parlare ma questo pulsante oltre che servire per rispondere a una chiamata Perché lui fa anche da viva voce poi magari chiameremo qualcuno Sicuramente qualcuno ti chiamerà nel corso della giornata Immagino serve per lasciare una BOA Raccontavi cos'è una BOA Sì ok la BOA è praticamente una BOA di emergenza E funziona in questo modo Quando io noto un problema, un pericolo sulla strada Che potrebbe essere un pericolo per tutti i miei colleghi Premo e tengo premuto il pulsante frontale Registro un messaggio dicendo che nel determinato punto sulla tale autostrada Nella determinata direzione c'è un problema Lascio il pulsante e da quel momento sulla mappa viene visualizzato un segnale di pericolo Che viene geolocalizzato automaticamente Esatto, rappresentato da un triangolo giallo appunto di pericolo L'utente che sta percorrendo quella strada Quando si avvicina a quel triangolo Può cliccare su quel triangolo e ascoltare quindi il mio messaggio E quindi rendersi conto di che genere di pericolo si tratta Poi mi dicevi una cosa fantastica Cioè anche se non hai lo schermo del telefono acceso Quindi non vedi Esatto Se ti avvicini una BOA Questo LED attorno al dual mic diventa rosso Esatto Tra l'altro questo LED ti indica un po' di cose Ed è anche personalizzabile Esatto, è personalizzabile il colore Si può anche disattivare nel caso di affastidio E se appunto io non sto guardando il display del telefonino Perché chiaramente devo guardare la strada Un segnale acustico Oltre al LED rosso che si illumina attorno al dual mic Mi avverte che sto per raggiungere un punto pericoloso Roberto ma cosa sono i canali? Nell'ambito di CB praticamente sono porzioni di frequenza Suddivise in modo da poter dividere tutto il traffico radio Per quanto riguarda l'applicazione La differenza tra modalità CH e modalità gruppi Fondamentalmente è la distanza Nella modalità gruppi non ci sono limiti di distanza Si può comunicare con tutto il mondo Mentre nella modalità canali Si può lavorare entro un range di 30 km Per quanto riguarda la versione base dell'applicazione Con l'acquisto del dual mic Quindi abbinando un dual mic al proprio account Questo specie passa a 100 km Comunque che strano sentire Andrea Carriazzi qua Comunque uno youtuber che racconti il modo dei camionisti da dentro Secondo me farebbe un successo incredibile Buongiorno, buongiorno a tutti Anche io pensavo fosse Gian Piero Galeazzi Sono deuso da questo Andrea Galeazzi E niente, penso che dopo questo passaggio Staccherò l'applicazione Anzi La disinstallerò E a Bagnale c'è E ultimi 100 metri Le ultime remate C'è vince l'Italia Galeazzi è più che essere il famoso per le accensioni E il famoso per i pipponi Tutto delle macchine elettriche Perché è già da male Ecco, mi sono messo un attimo in muto Perché voglio capire da te Com'è il gergo Dacci quattro dritte Un qualche episodio simpatico Sì, beh, allora Si chiama Codice Q Ha un nome proprio così Codice Q Ed è il codice diciamo radioamatoriale Radiantistico Per comunicare Usando appunto delle abbreviazioni O dei sinonimi Si parte per esempio la mattina con i saluti 7.3.51 Sta per saluti e cordialità 88 Nel caso si volesse mandare un bacio Si può dire per esempio Carica, vado a far carica batterie Quando mi fermo a mangiare Carica popille Quando mi metto a dormire A deposare Poi ci sono anche dei modi Per definire i membri della famiglia Tipo 25 La 25 è la mia fidanzata La 50 è la moglie La 75 è l'amante E così via Poi il codice Q Che appunto dice QRT QSL QTC E sono tutti Diciamo Tutte abbreviazioni Per comunicare In maniera più veloce Sulla radio Fantastico Mi si è aperto un mondo Tu però hai anche Il classico CB radio E hai Un modello Diverso Perché Io ce l'ho solo Bluetooth Che può comunicare solo con l'applicazione Tu invece Quel modello Che può sia comunicare Con l'applicazione Che tu hai qua Ma grazie al cavo Si interfaccia anche al CB Tra l'altro La cosa bella È che avendo connessa Sia radio Sia applicazione Tu con i pulsanti sul volante Puoi Esatto Comandare tutte e due Parlare senza togliere le mani dal volante Con una pressione del tasto Io sono andato in trasmissione E quindi con le mani completamente libere E il microfono a distanza Io posso parlare in totale sicurezza E rispetto del codice della strada Adesso stai parlando parte CB radio Esatto Mentre con l'altro tasto Tu utilizzi invece L'applicazione Mentre con quest'altro tasto Io prendo la portante Sull'applicazione E posso parlare nell'applicazione Premendo questo tasto qua Ovviamente usando sempre Lo stesso Con lo stesso microfono Con i due ormai Ma la radio soprattutto Mi raccontava perché Non ha bisogno Dei ponti Dei cellulari Oppure in un punto Non c'è la connessione C'è solo il 2G O anche in caso di calamità naturale Tu con la radio fai punto punto Non hai bisogno dei punti Non è un collegamento diretto Fra una radio e l'altra E quindi non Non c'è bisogno Di internet Non c'è bisogno di niente Anche in caso di assenza Dell'energia elettrica C'è comunque la possibilità Di comunicare via radio Via radio frequenza E secondo me è fico questa cosa Perché unisce le due tecnologie Quella smart di ultima generazione Ma rimane la possibilità della radio Esattamente Ma dove la mettiamo la roba? È poca Tre bancali Completiamo il carico E attenzione Che La Fra Ma quanto guidi bene Il muletto Complimenti E che parcheggio Millimetrico Ma volevo farvi vedere una cosa Io nel frattempo Sto continuando ad utilizzare l'app Perché ovviamente funziona anche senza il dual mic Quindi siete giù dalla macchina Giù dal camion Volete stare Comunque connessi Si può fare E si può ovviamente ascoltare E parlare direttamente con il pulsante Che è questo qua Vedete che Emula il push to talk E attenzione Sta arrivando una chiamata da Chiara Ha messo automaticamente l'applicazione in muto E da qua posso rispondere Pronto? Ciao Ciao amore Come mi senti? Ti sto parlando dal Ma io ho chiamato sul telefono Tu hai chiamato sul telefono Ma io ho abbinato Vabbè una storia lunga Praticamente Può fare anche da Viva voce bluetooth Questo dual mic Sto spiegando Vabbè ti sento benissimo Si devo dire che Microfono e il tuo parlante Sono veramente top Scusa un attimo Roberto confermi Cioè io sento Si si assolutamente si Dai è un volume audio Veramente veramente forte Anche in situazioni molto rumorose Si fa sentire molto 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 bene Oltretutto grazie Scusa Grazie alla soppressione di rumore È un ottimo soppressore di rumore Taglia e evita che si sentano i rumori circostanze Appunto in caso di ambiente rumoso Facendo ascoltare bene La voce del nostro interlocutore Chiara se hai sentito anche Roberto Promossa pieni volti Perché era lontani Perché è Roberto E c'era Roberto Ciao ciao Perché è a due metri da me Il camione è gigantesco Veramente Siamo a due metri E Avete sentito C'è lo switch automatico Nel senso che Messa giù la chiamata Si torna al Gruppo Track Day Tra l'altro Funzione interessantissima Vi voglio far vedere Che si entra Negli utenti del gruppo E se se ne seleziona uno Se quest'utente ha il dual mic Si può fare una chiamata Uno a uno Vedete per 15 minuti Si può parlare direttamente Solo con un utente Fabio senti Noi siamo parcheggiati Piccolo gruppo Tirato su tramite l'app E il dual mic Ciao Ciao a tutti Bellissimo Uno come uno tirato Eh certo Però la tendina antimosche Non la vedevo da tipo 1982 Fuori Green Pass Per me spaghetti aglio olio Non tantissimi Ma domanda Il fegato I ferri con la cipolla Come lo fate? Come lo facciamo? Sei ripresa Posso usarti in un video? No Adesso si vai Come lo facciamo? I ferri lo facciamo Ma è buono Consigli Aggiudicato Va bene Pozione abbastanza Da camionista Eh si Direi che la cipolla È abbondante Ma Già che sono qua Vi faccio vedere Una cosa Dell'applicazione Relativa all'audio Perché entrando Nelle impostazioni Proprio del dual mic Si può Oltre a impostare La lingua Con la quale ci parla Ma Personalizzare Alcuni parametri Che sono fondamentali Per chi ama ICB Prima di tutto L'eco Che si può Attivare Per disattivare Per avere Quella voce Più profonda Ma soprattutto L'equalizzazione Questa non è L'equalizzazione Dell'altoparlante Bensì proprio Del microfono Proprio per Personalizzarsi La voce E anche la possibilità Di andare a Definire La soppressione Del rumore Oltre a quello Si può personalizzare Il colore Del led Qua vedete Attorno al Dual mic E anche i tasti Il tasto frontale Può fare Da boa E ve l'abbiamo spiegato Prima Ma può fare Anche altre cose E queste sono Le cose Che può fare Allora Roby Direi Fegato con le cipolle Buonissimo Assolutamente si Ma Pregi e difetti Di questo Dual mic Da chi le radio Le mastica Da una vita Occhio Per passare Andiamo verso il camion Beh i pregi Sono sicuramente Tantissimi Soprattutto il fatto Di avere appunto La possibilità Di comunicare Sia a lunghissima distanza Anzi senza limiti Di distanza Sia in maniera privata Che in maniera pubblica Cioè Dicevi Avere una radio Sempre in tasca Avere una radio Sempre in tasca L'immagino Tu hai magari Il cibi sul camion Ma magari Hai anche una macchina Una bici Un furgone Beh puoi switchare Senza dover avere La radio anche lì Esatto E semplicemente Usando il cellulare Si può Usare L'applicazione Come fosse Un cibi Vero e proprio A me si è aperto Un mondo Mi sono divertito Veramente un sacco Siete una community A parte utile Perché i miei pacchi Come arriverebbero Hai fatto una giornata Da camionista Esatto Quindi grazie Davvero Di questo lavoro E Questo dual mic Costa 129 euro La Diciamo La versione Quella A bluetooth Esatto Bello il fatto anche Che si può agganciare Al cibi Radio Sì esatto Tradizionale Quindi tu hai una cosa Che fa tutte e due È un dispositivo Che fa da microfono Sia per quanto riguarda il cibi Che per quanto riguarda L'applicazione Ma non solo Perché è anche Un ottimo viva voce Per il telefono Quella mi ha scopito Un altoparlante Un con una cassa acustica Per ascoltare anche la musica Qualità Beh vabbè Diciamo che lo stereo Non lo batte nessuno Però volendo Si può usare anche In quel modo lì Mi ha stupito appunto La qualità dei microfoni Dell'altoparlante Sì Assolutamente Sì Soprattutto per quanto riguarda Il microfono Però anche come uscita audio Quindi anche l'altoparlante Bello anche il fatto Che puoi usare tutto Quei pulsantini sul volante Quindi sicurezza Sì Totale sicurezza E totale rispetto Delle normative stradali C'è il codice della strada Senti Io ti ringrazio Mi sono divertito Però quando avrai Un mezzo da cantiere Quelli 8x8 Sì Uno scavo Bene Mi chiami Perché lì c'è il vero divertimento Quelli per poter Passare soprattutto Soprattutto Sulla tangenziale di Milano Ciao ragazzi Ciao Grazie mille Ciao Grazie